Iper Moda Factory, il megastore dell'abbigliamento numero 1 a Pisa, ti aspetta per farti conoscere le nuove collezioni dell'autunno-inverno. Visita i nostri reparti uomo, donna e teenagers con proposte sempre aggiornate e la scelta tra oltre 60 brand internazionali e del made in Italy a prezzi incredibilmente convenienti. Da noi, la nuova collezione abbigliamento ed accessori desigual ha un 20% di sconto. Scopri la varietà di modelli del nostro reparto jeans casual, l'assortimento di abiti per tutte le taglie, il calore del reparto maglieria e dei capi spalla nei colori moda. Scopri il modo di comprare qualità senza spendere molto. Iper Moda Factory ti aspetta a Navacchio, zona commerciale, uscita pipillina, Navacchio-Visignano. Siamo aperti tutte le domeniche pomeriggio, ti offriamo ampio parcheggio e wifi gratuito.